Ben trovati una nuova puntata di You Economy, questa volta parleremo di un tema di stretta attualità. Fino ad oggi in Italia i piccoli risparmiatori e i piccoli imprenditori che come sapete sono un gran numero, forse la maggioranza sul territorio nazionale, quando si trovano sovraccarichi di debiti non hanno altre alternative che sottoporsi alle azioni giudiziarie. Questa è una differenza, una peculiarità italiana che ci differenzia da tutto il resto di Europa e dell'Occidente, però dal mese di dicembre un decreto legge ha cambiato le cose e questo decreto legge è in fase di conversione al Parlamento. Quindi oggi con questo decreto legge anche le piccole imprese e i privati possono godere di quelle strutture, di quei benefici, di quegli istituti che anche le grandi e medie imprese possono usufruire. Sto parlando del fallimento. Allora per capire qual è il contenuto di questa legge e cosa comporta, abbiamo qui un'autorevole esperta, è il preside della facoltà di giurisprudenza dell'università i campus, nonché professore di diritto commerciale nella stessa università, Elisabetta Bertacchini. Buonasera professoressa, benvenuta, grazie di aver accettato il nostro invito. Grazie a voi per avermi invitato. Allora abbiamo qui niente meno che una preside per spiegarci una legge innovativa sotto certi versi oserei dire rivoluzionaria, specialmente per quella che è la spina dorsale dell'economia italiana, cioè le piccole imprese e anche le famiglie. Allora cosa cambia con questa legge, cosa va a modificare rispetto all'asset attuale? Bene, lei come ha detto appunto questa è un'opportunità per certi soggetti che fino a questo momento in caso di difficoltà erano sottoposti soltanto le procedure esecutive individuali. Questo è un problema molto antico perché l'Italia era rimasta in Europa l'unico paese insieme alla Grecia a avere ancora questa distinzione tra i cosiddetti soggetti fallibili e soggetti non fallibili. Quindi è molto diciamo corretto il titolo che voi avete scelto per la trasmissione di questa sera, piccoli fallimenti crescono nel senso lato del termine. Perché la distinzione tra soggetti fallibili e soggetti non fallibili fa subito pensare a una situazione di beneficio per quelli che non falliscono nei confronti dei poverini che invece rischiano di fallire. In realtà paradossalmente questa situazione è da vedere al contrario perché essere soggetti non fallibili vuol dire anche essere soggetti che non possono proporre un concordato, che non possono proporre un accordo, un piano di risanamento e loro creditori non possono usufruire di nessuno di quegli istituti che invece tutti gli altri imprenditori possono usufruire. Fino a oggi i soggetti che non potevano usufruire di queste alternative erano appunto tutti i privati perché anche i privati si possono sovraindebitare e quelle imprese che per la loro tipologia, ad esempio le imprese agricole o per la loro dimensione, non erano considerati idonei ad essere sottoposti a queste procedure. Oggi invece molto è cambiato perché questa legge di dicembre in fase di conversione costituisce l'ultimo tassello di un procedimento che progressivamente dal 2006 a oggi ha consentito di modificare tutta la struttura della legge fallimentare italiana riempiendo anche questo vuoto normativo che da tempo era auspicato consentendo quindi anche ai cosiddetti soggetti non fallibili di usufruire di procedure negoziali di composizione della crisi che si voleva in qualche modo più semplificate. In realtà come vedremo dopo l'intenzione del legislatore sicuramente è buona nel senso che si è arrivati finalmente a questo risultato. le attese sono state un po' deluse per quanto riguarda le esigenze di semplicità perché purtroppo quantomeno per come è stata presentata in prima battuta questo strumento, la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento sembra essere addirittura più complessa delle normali procedure di composizione della crisi degli imprenditori cosiddetti fallibili cioè di normali dimensioni. Cioè è più difficile, più complessa la situazione per un piccolo che si sovraindebitamento? Paradossalmente per un piccolo che cerca di proporre ai suoi creditori una situazione di definizione del suo sovraindebitamento l'istituto che oggi ci viene proposto appare più farraginoso e più complicato tenendo presente che per sua natura dovrebbe essere destinato a insolvenze di dimensioni piuttosto contenute cioè quella degli imprenditori di piccole dimensioni degli imprenditori agricoli e dei privati che in genere non hanno dei sovraindebitamenti particolari. Va però anche precisato che questa scelta normativa si inserisce in un più ampio disegno di moralizzazione del credito e di lotta all'usura perché il discorso va visto anche collegato a un utilizzo abnorme del credito che a volte in situazioni di difficoltà poi vede anche l'inserimento di forme di finanziamento non corrette al limite dell'illecito. Ecco, mi scusi, visto che parliamo di moralizzazione che mi trovo assolutamente d'accordo ma il fatto di entrare qui nella procedura più complicata non va a favore di chi la conosce e a favore di chi non la conoscerà mai perché la volontà non è, quando parliamo del piccolo non è la volontà di inevitare. La procedura di per sé appare piuttosto complessa. Va detto questo che in questa procedura diversamente da quello che accade nelle altre procedure è data, è delineata una funzione molto importante e sono attribuiti dei poteri molto ampli al cosiddetto organismo per la gestione delle crisi di impresa. Questo organismo che inizialmente sarà rappresentato soprattutto dagli ordini professionali e quindi dai professionisti, commercialisti, avvocati che hanno già un'esperienza in fallimenti, in procedure concordatarie e quant'altro, ha una funzione che definirei trasversale. È un super organismo perché questo organismo, che avrà sede presso gli ordini inizialmente in attesa che il Ministero poi lo regoli più nel dettaglio, dovrà accompagnare il soggetto debitore sovraindebitato nella fase di predisposizione del piano, mandare ai creditori, sottoporre ai creditori questo piano, valutare ovviamente e attestare la veridicità dei dati e l'attuabilità concreta del piano e poi una volta che i creditori hanno manifestato la loro adesione almeno nella percentuale del 70% prevista, portare questo pacchetto in tribunale affinché il tribunale, sentendo anche il parere dei creditori, conceda 120 giorni di moratoria delle azioni esecutive perché c'è sempre il timore che nel frattempo qualche creditore che magari non ha aderito si muova con delle azioni esecutive individuali andando quindi a squilibrare quelli che sono i rapporti tra i vari gruppi di creditori. Infine, se il tribunale ritiene che tutte queste condizioni siano state raggiunte, con l'omologazione dal disco verde definitivo alla procedura. Quindi il fatto che il piccolo o il privato vengono a conoscenza dell'esistenza di questo istituto passerà sicuramente da una diffusione attraverso il mondo professionale che si farà cura di informare i potenziali interessati perché non è detto che tutti questi soggetti possano avere le credenziali e quel minimo di disponibilità patrimoniale e finanziaria per ricorrere a questo istituto. Ma questo organismo che di sua natura è fatto proprio da professionisti dovrebbe essere quello che si fa un pochino carico dell'informativa attraverso le organizzazioni professionali, le organizzazioni imprenditoriali nei confronti di quei soggetti che fino ad oggi non avevano questa possibilità e che quantomeno verranno messe nelle condizioni di conoscere che c'è questa opportunità chiaramente da lì a poterne oggettivamente, concretamente usufruire e beneficiare ci sono però delle altre condizioni che devono comunque esistere. Ecco, volevo chiedere proprio una cosa a questo punto professoressa lei è stata molto chiara, però per essere più pragmatici visto che siamo forse i primissimi come media a parlare di questa novità il piccolo imprenditore, pensiamo a un contadino piuttosto che il padre di famiglia che oggi con questa crisi si è trovato improvvisamente sovraindebitato come si deve muovere operativamente? Allora, deve innanzitutto contattare un professionista perché nelle norme transitorie si dice che in attesa che vengano costituiti questi organismi le funzioni sono attribuite a quei professionisti che già sino oggi svolgevano le funzioni di cui l'articolo 28 della legge parlamentare cioè commissario, curatore, cioè esperti chiamiamoli della crisi di impresa e questi esistono da sempre. Capito, però il signor Rossi, padre di famiglia o nostro contadino deve andare dal suo commercialista il quale gli darà le indicazioni dicendo guarda che oggi c'è anche la possibilità di utilizzare questo tipo di procedimento che però, come accennavo, richiede un minimo di condizioni non solo soggettive, per cui se uno è troppo grande non lo può utilizzare Deve esserci una situazione di effettivo sovrindebitamento che la legge definisce cioè squilibrio tra l'indebitamento e i mezzi finanziari e una oggettiva impossibilità di riprendersi Poi poniamo il caso, per fare un caso concreto il padre di famiglia, come citava prima Carlo che perde il lavoro e ha un mutuo può accedere? Sicuramente può accedere perché è un privato quindi è un soggetto Gli conviene? Oggi dipende Dipende dalla entità dell'esposizione dipende dal valore in questo caso specifico che lei fa dal valore del bene, la casa che è stata data a suo tempo in garanzia di questo mutuo per cui la persona potrà sicuramente proporre alla sua banca un'ipotesi di utilizzo di questo piano di composizione magari proponendo un pagamento in misura inferiore a quello che è l'esposizione globale della banca magari però in un tempo un pochino più breve e la banca potrebbe anche in un caso come questo essere anche lei invogliata ad aderire perché è vero che se la banca ha un'ipoteca su un immobile la banca fino al valore di quell'immobile ha diritto ad essere pagata per intero ma solo dopo che quell'immobile sarà stato venduto per cui prima bisogna passare da tutte le operazioni di vendita e poi bisogna andare a vedere cosa effettivamente si ricava da quella vendita però mi vengono in mente i muti su prime dove sostanzialmente visto che parlavamo prima di moralizzazione che ribadisco è un argomento che mi piace molto però la moralizzazione è a due vie perché deve essere morale io che ho contratto il debito ma anche chi sostanzialmente è il mio creditore in questo caso qui parliamo dei muti su prime che non sono un caso italiano quindi fortunatamente noi siamo al contrario esattamente però diciamo che serve come esempio in questo caso qui la banca che mi ha finanziato in eccesso con eccessiva facilità in questo caso qui con un procedimento del genere è moralizzata se mi passa il termine cioè vorrei dire verrà penalizzata in qualche misura oppure potrà fare quello che vuole teoricamente esistono delle forme di responsabilità delle banche sia per un'eccessiva concessione di credito così come esistono delle forme di responsabilità per una improvvisa revoca dell'affidamento cioè ci sono questi due estremi allora è anche teoricamente pensabile che una banca assume una responsabilità per avere indebitamente concesso un finanziamento che poi si è rivelato non capiente la banca sarà però responsabile diciamo l'operatore nei confronti del sistema bancario non nei confronti ovviamente di quel cliente che si è visto dare un mutuo di 100 a fronte però di una sua non capacità di rimborso gli era andata bene gli è andata bene fino a un certo punto a un certo punto non gli va più bene quindi questo non va sostanzialmente a... no, da moralizzare in quel senso può andare a moralizzare in un'altra direzione cioè a dire questo tipo di istituto che consente appunto al piccolo e al privato di liberarsi perché l'effetto diciamo interessante sia quello di poter dialogare con i creditori ma è anche quello di ottenere laddove i creditori almeno al 70% aderiscano alla proposta eccetera eccetera e poi siano soddisfatti secondo il piano di ottenere la liberatoria per tutto ciò che non è stato pagato e questa è la grossa differenza rispetto alle procedure esecutive individuali chi è sottoposto ad una procedure esecutiva individuale teoricamente rimane passibile di essere tra virgolette perseguitato dai suoi creditori fin quando non ha pagato tutto perché la procedure esecutiva individuale colpisce certi beni ma se un domani quel debitore ha degli altri beni il creditore che è rimasto insoddisfatto se i termini non sono prescritti può andare avanti a fargli le azioni esecutive invece laddove un debitore utilizza una di queste procedure concordati, accordi, procedure minori, attuali eccetera e ottiene l'adesione e diciamo rispetta i suoi impegni per tutto ciò che non soddisfa che non paga è definitivamente liberato è quello che in linguaggio anglosassoni si chiama la discharge cioè l'esdebitazione l'effetto liberatorio e questa è una delle ragioni per cui si dice che paradossalmente queste norme ci si domanda ma perché le norme sul piccolo fallimento come l'avete definito voi possano essere inserite in un pacchetto di misure anticrisi ma come c'è la crisi e noi come soluzione facciamo fallire anche quelle che prima non fallivano sembra una contraddizione di termini in realtà non è una contraddizione di termini perché qui si vede bene come quello che dicevo all'inizio questa distinzione tra non fallibili e fallibili che fino a qualche decennio fa faceva pensare che i non fallibili fossero protetti e invece i fallibili fossero esposti all'udibrio del fallimento in realtà sta facendo vedere che la situazione è esattamente contrario perché il concetto di bankruptcy sia all'americana all'anglosassone che poi è entrato anche in Europa il fatto che in assenza di responsabilità penali viene data al soggetto che ha come unica colpa quella di essersi sovraindebitato la possibilità di rifare di riscattarsi pagando una certa somma ed essendo liberato per tutto il resto ma uno che si riscatta a questo punto poi può contrarre altri debiti perché sennò a questo punto diventa un po' il gatto che ci manda la cuore perché è chiaro il concetto che come si dice non sono lombardo quindi me piuttosto che niente giusto questa cosa qua come si dice allora se ho imparato me piuttosto che niente me piuttosto brava grazie è la professoressa ma se anche piuttosto che niente è meglio piuttosto ci mancano anche pochi maledetti e subito dopo la presentanza arabe cinese abbiamo anche la presentanza lombarda però non va a incentivare il fatto cioè se uno si libera poi ricomincia ad evitarsi allora prima domanda a me le faccio la seconda così perché penso che sono collegate poi ci sono professioni piuttosto che oppure anche l'accesso al credito uno che aderisce e si libera quindi dimostra la buona volontà può e potrà contare eventualmente un altro mutuo altri perché oggi come oggi per uno che entra in un presidente del genere è un disastro allora la sua prima domanda posso dare la risposta precisa perché la legge lo prevede espressamente questo beneficio è riconosciuto a quei soggetti con quelle caratteristiche sotto il profilo dimensionale e di tipologia ma a condizione però che non ne abbiano già usufruito nei tre anni precedenti quindi questa possibilità si può reiterare però con una distanza minima di tre anni questo è il primo discorso l'altro elemento che può aiutare a dare una risposta alla sua domanda è che la legge espressamente prevede che nella presentare il piano il nostro immaginario debitore soggetto sovraindebitato debba dichiarare se ha avuto delle limitazioni nell'uso di carte di credito di emissioni di assegni eccetera perché c'è questa idea che si voglia andare nella direzione della moralizzazione la legge non dice però se come conseguenza dell'utilizzo del ricorso a questo procedimento questo soggetto potrà poi avere delle limitazioni nella concessione perché se la legge lo dicesse allora andremo a contraddirci con quanto abbiamo detto prima perché noi abbiamo detto che questa misura va a collocarsi in un pacchetto anticrisi per cui per consentire a queste persone di rigenerarsi di pulirsi dei loro debiti e di ricominciare pulite se ovviamente noi dicessimo che ci sono delle sanzioni invece diciamo gli emendamenti che sono stati presentati e questo secondo me è giusto mettono delle sanzioni nei confronti di coloro che tentano di utilizzare queste procedure senza averne le condizioni o comunque proponendo delle soluzioni che poi palesemente si rivelano diciamo infondate ma con un'ottica fraudolenta a questo accenno soltanto perché questa previsione quindi di penalizzare chi ne abusa è soltanto negli emendamenti bisognerà vedere se gli emendamenti passano cioè se questo di penalizzare chi abusava prima no prima non c'era quindi non poteva fare ecco prima non c'era perché questo tipo di controllo delle procedure diciamo più grandi era ed è ancora affidato al tribunale fallimentare e al commissario giudiziale ma inserirsi in questa procedura poi verrà segnalato oggi come oggi di se la centrale rischi crif eccetera eccetera come funzionerà? sicuramente rimarrà traccia di questo perché nel momento in cui il creditore banca accetta supponiamo accetta questa soluzione questa moratoria questa composizione negoziale di questa posizione rimane traccia se non altro per il fatto che se la banca accetta di avere 50 a fronte di 100 quei 50 vanno a perdite nei confronti di questi soggetti e quel soggetto comunque resterà sempre un soggetto che ha pagato meno di quanto doveva tutto il resto poi dipenderà dal tipo di valutazione delle banche eventuali comunque abbiamo capito chiaramente non è un segno positivo c'è anche un deterrente quindi per chi volesse fare il cosetto furbo questo è un elementamento se passano gli elementamenti sì perché la prima versione del 22 dicembre non si preoccupava di perché nessuna procedura concorsuale o paraconcorsuale perché questa non è una vera e propria procedura concorsuale si preoccupa di dire espressamente guarda che se tu utilizzi questo strumento in maniera non corretta avrai queste penalizzazioni ci sono all'interno di tutta la legge fallimentare il ricorso abusivo al credito il mendaccio bancario l'insolvenza fraudolenta l'aver aumentato fraudolentemente l'attivo o dissimulato il passivo ha tutte delle conseguenze qui siamo dai piccoli ai giganti come concetto il modello parma diciamo così ecco abbiamo sentito però poco fa che questa legge prende spunto dal modello anglosassone è già diffusa in tutta Europa in tutto l'occidente e i fanalini di coda erano l'Italia e la Grecia però a questo punto mi piacerebbe sapere come va nelle cosiddette economie emergenti che stanno sempre più emergendo come sono le cose dal punto di vista dei debiti come vengono trattati dal punto di vista giuridico quindi Ayat è lì com'è la situazione dei vostri paesi Ayat cosa ci dici nel tuo paese nel paese arabi i piccoli imprenditori o anche i cittadini semplici che sono sovraindebitati come si comportano cosa fanno in questi casi? Allora i piccoli diciamo i piccoli imprenditori nei paesi arabi soprattutto nel nord Africa che ho cercato un po' di analizzare si indebitano molto i contadini nel periodo della coltivazione e ripagano i loro debiti alle banche diciamo nella raccolta invece per diciamo le aziende di città invece investono molto i loro debiti in i loro patrimoni ecco non chiedono molto i crediti alle banche quindi non hanno molto fallimenti quindi se falliscono falliscono con il loro patrimonio quindi sono soprattutto i contadini che fanno ricorso sì i contadini soprattutto sono diciamo le persone più di una classe sociale più sì diciamo un po' più disagiata come mezzi perché devono aspettare il raccolto per rientrare nei debiti ho capito quindi rischiano e se non va bene il raccolto se non va bene il raccolto loro prima di chiedere diciamo i crediti alle banche diciamo che mettono impegno in ipoteca le loro case i loro terreni quindi diciamo che le banche sono sicure del loro denaro del loro prestiti e invece nel sollevante come va lì? dico la Cina anche la Cina ha una legge per legorare il fallimento delle imprese la legge attuale è quella di 2007 questa legge riguarda tutti i tipi di imprese pubbliche private joint venture aziende quotate imposte e no capitale straniero e no le banche e le assicurazioni in caso di fallimento di un'azienda in Cina questa azienda risponde anche con le sue proprietà detenute estero quando un creditore che non viene pagato chiede il fallimento dell'azienda deve andare al tribunale dove gli siede il debitore e fare la richiesta il tribunale notifica la richiesta al debitore e al massimo un paio di mesi decide se apri o non la precedura di fallimento il tribunale nomina un curatore fallimentare durante la precedura di fallimento sono congelate tutte le transazioni finanziarie l'ordine di pagamento del creditore è il seguente numero uno primo salari e contributi erogazioni sanitarie accantonamenti dei lavoratori il nostro TFR insomma poi tasse e premi assicurativi alla fine e infine il resto dei creditori ho capito quindi riguarda anche i piccoli i piccoli imprenditori questa legge che c'è da voi in Cina giusto? per tutti le imprese e poi c'è una peculiarità nel caso di fallimento anche di una grande azienda stavolta come viene considerato diciamo lo stipendio dell'amministratore delegato? in caso di fallimento lo stipendio del direttore corrisponde a quello della media del salale quindi un amministratore delegato prenderebbe come la media di un qualsiasi dipendente dell'azienda mi sembra molto interessante questa cosa corrisponde alla legge pensate se fosse stato così anche per la Lehman Brothers perché la loro CEO prese una buona liquidazione nonostante poi ricordiamo tutti quelle fili disoccupati con gli scatoloni con i loro effetti personali in mano che cercavano il lavoro va bene grazie voi avete debiti ragazzi no non avete questi problemi fino ad oggi no siete scrupolose nei vostri debiti e crediti brave sento una cosa una curiosità professoressa noi questa puntata l'abbiamo appunto intitolata piccoli fallimenti crescono per farci capire da tutti quanti invece questa procedura in realtà ha un nome un po' articolato come si chiama procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ecco pensate solamente abbiamo già finito la puntata infatti alcuni miei colleghi che l'hanno già commentato e lo sto anch'io commentando l'hanno già definita procedura PCC l'acronimo PCC ecco quando sentirete parlare di PCC sappiate che si tratta di un offeso non è un'offesa ecco volevo chiederle ancora una cosa prima di concludere in questo momento c'è un fenomeno piuttosto triste cioè nel Nordest pare che i piccoli imprenditori si stiano suicidando questo tipo di procedura potrebbe essere utile per evitare uno questo fenomeno legato anche al fatto che la pubblica amministrazione non paga quindi da una parte se la pubblica amministrazione non paga la banca vuole i soldi e il piccolo imprenditore che è quasi simile a un privato di fatto anche a livello di competenze si trova schiacciato da questa situazione Lei tocca un tema che in effetti ha una sua rilevanza un argomento abbastanza triste perché pensiamo che in passato il suicidio per debiti era proprio considerato un fenomeno molto frequente al punto tale che nell'Ottocento era considerato come un indicatore di uno stato di insolvenza cioè per misurare l'effettiva situazione di decozione di una realtà economica di un commerciante come allora si chiamava il fatto che il titolare si tolga la vita era proprio l'ulteriore dimostrazione del fatto che ormai non c'era più nulla da fare poi nel tempo diciamo da un lato fortunatamente per gli imprenditori questa figura dell'imprenditore che sommerso dai debiti si toglie la vita era diventata un po' una figura fulcroistica tant'è che era portata come esempio nei manuali per gli studenti per far capire cosa si voleva dire indicatore di insolvenza ma ormai caduta in disuso purtroppo la realtà ci ha fatto di nuovo incontrare queste situazioni tristissime che ovviamente danno anche la sensazione che ci sono molti imprenditori che sono molto sensibili anche a quella che è la realtà dei dipendenti magari dipendenti che sono con loro da 30-40 anni e che queste piccole imprese che magari parliamo di una realtà familiare di un titolare con 4 dipendenti che si trova a dover dire a queste persone dopo 30-40 anni signori devo chiudere sommerso dei debiti allora effettivamente da un lato questo tipo di strumento per questo che abbiamo detto che non a caso è dentro nel pacchetto anticrisi potrebbe consentire anche a queste realtà di affrontare una situazione di sovraindebitamento ma con un atteggiamento diverso perché c'è una via di uscita concreta come tutte le procedure chiamiamole tra virgolette concorsuali o semi concorsuali anche di questa però va detto come per tutte le altre che il segreto diciamo sta nell'utilizzarla per tempo non aspettare di essere talmente sovraindebitati che non c'è più niente da fare questo è un problema eh sì perché diciamocelo perché il picco imprenditore tende a sovrastimarsi tutti piccoli grandi medi giganteschi non c'è imprenditore se non rarissime eccezioni per quello che ho detto che è importantissima la funzione del professionista che sia in grado che voglia magari lo sa benissimo ma che riconosca per tempo di essere in stato di crisi o di insolvento di sovraindebitati è un problema psicologico è certo perché non si vuole ammettere il fallimento non si vuole ammettere il fallimento è un po' come scusate il paragone è un po' triste è un po' come sulla Costa Concordia che prima di dichiarare l'allarme esattamente speravano cioè il prendere atto di una propria situazione di crisi di debolezza diciamo di un proprio fallimento in senso relativo perché in fondo stiamo parlando di soldi non stiamo parlando di nient'altro è l'elemento più difficile è l'ostacolo maggiore che incontrano i professionisti io lo posso dimostrare perché lo faccio da anni questo tipo di lavoro nell'affrontare la crisi la scarsa cioè la non volontà se non in caso eccezionale dell'imprenditore di prendere atto e di rimandare sempre perché si immagina sempre che ci sia un cavaliere bianco che a un certo punto arriva e che gli risolve la situazione allora il cavaliere non c'è non è bianco l'unico segreto che è un segreto di pulcinella è rendersene conto per tempo affidarsi a bravi seri professionisti ecco allora consigli piccoli imprenditori e padri di famiglia tenete sotto d'occhio i conti se vedete che le cose non tornano andate subito a parlarne con il vostro commercialista o l'avvocato di fiducia e oggi cari telespettatori credo che abbiamo avuto una grande novità abbiamo conosciuto questo provvedimento questo dispositivo che oggi la legge mette a disposizione e sono sicuro che nei prossimi giorni anche gli altri media a meno mi auguro ne parleranno però se aveste ulteriori dubbi e domande da porci potete scrivere alla nostra casella email che troverete sul sito di sateglios.tv e poi noi inoltreremo le domande alla preside la professoressa Bertacchini allora io ringrazio appunto preside di essere stata con noi grazie a voi di averci spiegato questa novità grazie a voi per l'invito grazie a voi ringraziamo appunto professoressa Elisabetta Bertacchini preside della facoltà di giurisprudenza dell'università e campus un grazie anche a Ivano Ali e a Dayat e a tutti voi arrivederci alla prossima puntata di Ueconomy grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti